Quante volte avete pensato di sacrificare i vostri cuscini o i vostri pupazzi per ricavare un po' di imbottitura? Magari per un nuovo puff o per un cuscino originale, oppure per la cuccia del vostro cagnolino o ancora per un dolcissimo amigurumi destinato ai più piccoli e realizzato con tanto amore all'uncinetto? Beh, Tessiland vi salva da questa disperazione. Una soffice imbottitura in microfibra di poliestere e siliconata 100% made in Italy. Ma perché proprio questa imbottitura? Perché non è una semplice imbottitura, è come avvolgere le vostre creazioni in una nuvola di qualità, bianca come la neve, soffice e modellabile. È inoltre traspirante antimuffa, quindi per creazioni sempre fresche e sicure, ma anche analergica e antimicrobica, quindi non dovrete più preoccuparvi di allergie o muffe. Fate quindi un salto nelle vostre creazioni, anche perché il vero handmade non è solo creativo, ma è anche e soprattutto fatto di materiali giusti. Affidatevi quindi all'imbottitura Tessiland. E iniziate subito il vostro prossimo progetto riempito di morbidezza e qualità. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, ma anche di seguirci su Facebook, sia sul gruppo che sulla pagina meglio di Maya, su Instagram, Pinterest e TikTok. Non perdetevi le nostre dirette il mercoledì su TikTok con Amelia e Rosaria e il venerdì con me e Andrea. Noi ci vediamo al prossimo news. Ciao! Ciao!